Lorenzo, non la miglior sir della stagione senza dubbio, sconfitta netta nel punteggio, come dal punto di vista pallavolistico? Abbiamo giocato non bene, sicuramente probabilmente non siamo mai stati in grado di entrare in partita se non quell'attimo del primo set quando li avevamo ripresi e superati con il serie di battute di Atanasievic, abbiamo giocato male, probabilmente anche io potevo fare qualche cosa di più a livello di intervenire prima, di fare qualche decisione, qualche scelta prima, quindi mi prendo tutte le responsabilità siamo arrivati qui in un interminato modo, da qui usciremo con la stessa forza che avevamo fino a prima questa è una sconfitta contro una squadra che ha giocato sicuramente molto meglio di noi oggi ci rifletteremo, l'analizzeremo, la valuteremo e poi dobbiamo ripartire come abbiamo fatto dopo Civitanova e dopo come dovremo fare quando accadranno altre sconfitte di questo tipo qua Grazie Lorenzo